Lorenzo Navalesi, assessore del comune di Nizza, è ormai un'amica di Imperia, lo possiamo dire perché la sua è una presenza graditissima e che si ripete nel tempo e oggi ci ha portato anche un po' di sapori, colori di Nizza perché abbiamo tante particolarità, pochi banchi concentrati ma che concentrano veramente le particolarità. Sono delle specialità di Nizza e di intorno di Nizza, avete dunque la socca che rassomiglia un po' alla vostra farinata, avete, questo è più originale, sono i gallet de Nisse che si può mettere sale e pepe, sono dei ricordi delle pietre che sono sulle spiagge di Nizza, poi avete qui grass che fa olio, patte di oliva, miele eccetera e poi qui avete delle ragazze molto carine che rappresentano dunque Nizza e che hanno portato un po' il mangiare nizzardo, la pissaladiere, i farciti, ecco abbiamo preso... C'è stato qualcosa che assomiglia anche a noi, questo dimostra quanto siamo legati voglio dire. Siamo cugini proprio vicinissimi, la Liguria, il Piemonte, Nizza e la metropoli di Nizza, siamo proprio cugini stretti, 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 siamo proprio. Uno dei simboli, anche quello non sappiamo farlo bene come voi, bisogna riconoscere, la tarto citron, la torta al limone. Sì, questa è una specialità, facciamo anche la tarto bled alle bietole ma è zuccherata, è una specialità anche di nizzarda, invece voi la fate salata. Salata, sì. E poi ho visto anche i fiori ripieni, le verdure ripiene diciamo, quindi insomma un legame, un connubio che con l'olio oliva si rinnova sempre ormai. Assolutamente, sì. E ne approfitto per ringraziare l'invito del signor Luppi, dunque che mi ha invitato ancora quest'anno, ero già venuta l'anno scorso e ho tenuto assolutamente a ritornare quest'anno perché questa festa dell'oliva è fantastica, bellissima. Poi avete una città imperia che vale la pena di essere conosciuta perché è molto bella, il bordo mare ma anche l'entroterra è veramente molto molto bello. E dunque io spero che l'anno prossimo si possa fare un altro progetto insieme e comunque io aspetto delle persone d'imperia che vengono a Nizza l'anno prossimo a una festa un po' simile. Sarà sicuramente una bellissima iniziativa da proseguire, un cammino da proseguire insieme. Assolutamente perché è la mia delega, ho le relazioni con l'Italia, le relazioni trasfrontalieri in tutte le specialità, anche nella cultura, ma questo devo dire che è una bellissima cultura, la cultura del mangiare bene perché si mangia bene in Italia, i prodotti sono buonissimi e ancora complimenti e ringrazio anche il comune di Imperia, veramente complimenti. Ecco, è proprio un piacere e spero di ritornare presto. Presidente Lupio, ormai Olio Oliva ha veramente conquistato anche la vicina Nizza, Lorenzo Navalesi ancora qui con dei banchi di prodotti tipici, c'è grande entusiasmo per questa collaborazione, c'è appena detto Lorenzo Navalesi che la vorrebbe ulteriormente incentivare con degli scambi anche degli imperiesi su Nizza, quindi si sta costruendo qualcosa di concreto. Sicuramente sì, ci stiamo lavorando da due anni, voglio dire, nulla nasce per caso. Madonna Navalesi che è consigliere delegata ai rapporti internazionali della Meridinizza, si è dimostrata interessata, disponibile alla delega del sindaco per proseguire questo percorso. Noi abbiamo ben accolto alcuni espositori del comune di Nizza, in modo da esemplificare in maniera concreta il loro impegno di interesse. Per il prossimo anno intendiamo creare proprio un ponte culturale tra noi e loro, beneficiando vicendevolmente delle nostre esperienze e delle loro esperienze. Noi siamo divisi da un confine di Stato perché Italia è Francia, ma sotto il profilo territoriale Nizza fa parte della nostra riviera, riviera Cotte d'Azur, riviera dei Fiori. Vi è un interscambio fortissimo, clienti francesi che vengono a Ventimiglia, Sanremo, Bordighera, fino ad Imperia e noi viceversa. Quindi cercheremo di creare mutualità, ripeto, e osmosi tra i due territori, le amministrazioni e gli eventi che stiamo realizzando. Anche perché per il pubblico significa assaporare, in alcuni casi, piatti simili ai nostri, in altri potremmo parlare di reinterpretazioni di piatti nostri, questo simboleggia anche poi la vicinanza di questi territori, che è una vicinanza storica, i confini ci sono ma sono sulla carta. Una volta eravamo un tutt'uno, poi qualcuno ha mollato, ce l'ha venduta o l'ha ceduta, però noi guardiamo avanti e, ripeto, siamo per un'Europa unita, vogliamo essere cittadini del mondo e quindi sicuramente l'osmosi, ripeto, tra Italia e Francia, tra le due riviere, è un fatto da consolidare.